Hai colto la zucchina tirando e hai strappato via mezza pianta, ma come si raccolgono le zucchine? La cosa da non fare è tirare la zucchina in questo modo perché si porta via la pianta, invece potrai tagliarla con un coltellino o con una forbice, facendo attenzione a non danneggiare le foglie, così, e così. Se c'è qualche segno di malattia sulle foglie è bene disinfettare le lame con acqua e alcol tra una pianta e l'altra. L'altra tecnica è girare la zucchina in modo che il picciolo si rompa senza danneggiare la pianta. Queste le foghe grattugiate con limone e l'olio e questa saltata in padella, buone le zucchine!